Namaste, sono Prema, il direttore di Yoga delle Stelle e ho scritto un nuovo articolo che ti parla di cos'è l'astrologia vedica, l'astrologia dello yoga. Questa scienza tradizionale, antichissima, che si basa sui testi dello yoga in sanscrito, è pochissimo conosciuta in Italia, praticamente sconosciuta. Sicuramente hai sentito parlare di astrologia, hai sentito parlare di astrologia in tutte le sue declinazioni, ma non hai mai sentito parlare di astrologia vedica. Ecco, finalmente ti spiego cos'è questa astrologia vedica a cui dedico il mio tempo, a cui ho dedicato la mia vita anche da ingegnere scettico. Ti spiegherò tutto su questa antica scienza in questo articolo. Clicca qui sotto per scoprire di più. Namaste.